L'associazione Robin Hood segnala che sono centinaia le cartelle pervenute in questi giorni ai cittadini abruzzesi relative alla TCG, la tassa di concessione governativa richiesta dallo Stato per l'uso in licenze delle frequenze telefoniche. Sono tenuti a pagarla tutti i titolari di un abbonamento, mentre non riguarda i possessori di una SIM ricaricabile o i contratti che hanno ad oggetto solo il traffico dati. Per l'associazione le cartelle sono per la maggior parte prescritte o non dovute, per questo c'è la necessità di presentare ricorso da parte dell'utente. Questa è una tassa di concessione governativa alla quale erano tenuti una serie di soggetti, ma altri soggetti tipo gli invalidi, i portatori di diversa abilità, leon lusso, ed altri soggetti non erano tenuti a pagarlo, perché era una tassa del lusso, quando il cellulare all'epoca era ritenuto ancora un prodotto di lusso. Tassa che ancora oggi esiste, tassa che pagano anche le pubbliche amministrazioni. Che cosa accade? Accade nel 2013, che è un anno molto distante, parliamo di nove anni fa, molti contratti erano dei contratti fasulli, oppure le compagnie telefoniche, così come fanno adesso, quando uno manda la disdetta, invece di disdettare subito il contratto, lo disdice mesi e mesi dopo, anche anni dopo. Per cui questa tipologia di contratto, quindi ripetiamo, contratti mobile non ricaricabile, in pratica genera questa tassa di concessione governativa. L'operatore riscuote questa tassa nell'interno della proposta e poi l'arriva verso lo Stato. Chiaramente noi riteniamo che questa cosa sia inconcepibile, che venga richiesta dopo nove anni, anche perché uno deve ricordare che cosa era accaduto, non anni fa. Chiaramente chi è venuto qui da noi e ha avuto la nostra tutela, abbiamo tutta la documentazione, quindi riusciamo a ricostruire e fare il ricorso. Però sono tanti che non ricordano che cosa era accaduto nove anni fa o non hanno la documentazione, perché dopo un anno l'hanno distrutta. Per quanto riguarda questa materia, se la cassazione si è espressa e la prescrizione era triennale, per cui c'è materia per la quale possiamo instaurare una difesa del consumatore.